È entrata in chiesa, ha cominciato a buttare fasi, insomma c'erano delle signore che erano a fare le loro funzioni religiose e questo è entrato dentro, ha dato un'escandescenza. Sono stati attimi di panico quelli vissuti all'interno della chiesa di Pescaiola dove un 36enne straniero ha dato un'escandescenza prendendosela con vasi ed altri oggetti. È successo ieri pomeriggio attorno alle 18 nella chiesa di Sant'Agnese in via Alessandro Dalborro. Qui l'uomo, un 36enne senza alcun motivo, ha iniziato a danneggiare tutto quanto si è trovato di fronte. Sul posto si sono così precipitate due pattuglie della polizia di Stato che hanno atteso l'uomo all'uscita della chiesa. A quel punto è intervenuta la polizia, le forze dell'ordine, hanno fatto un po' e lui è scappato, però ha rotto un po' di cose in chiesa, insomma non è bello questa cosa. Il 36enne era ancora piuttosto alterato così gli agenti hanno richiesto l'intervento anche del personale sanitario del 118. Gli operatori hanno così trasportato in codice giallo l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo dove è stato ricoverato. Ancora non si conosce cosa possa aver scatenato la furia dell'uomo se il folle gesto sia stato causato dall'assunzione di sostanze psicotrope o problemi psichiatrici.